ma soprattutto da un punto di vista tecnico e poi anche normativo, quindi ritengo sia molto interessante in ambito progettuale, perché è un secondo momento, le panche che possiamo averne di diversi tipi, possiamo avere anche qui le luci, la cromoterapia, possiamo avere i vetri fissi, quindi vado a personalizzare a mio piacere… Cioè sono degli accorgimenti particolari a livello manutentivo che bisogna rispettare? Per quanto riguarda tutti gli altri…